Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Banding of Isaac After Bear Plus Io sono Ser, benvenuti nel mio canale E credo faremo una daily Con Kane Oh Megasatana Megasatana ci attende Mi piacerebbe arrivarci vivo Da Megasatana per esempio Mi piacerebbe anche capire Mi piacerebbe anche capire dove era stanza degli oggetti Tu esplodi no? In mille lacrime Di Okuto Va bene Merda No, non ho possibilità credo di uscirne in denne Non ci so tinted no? Ok Allora se faccio così Esplode solo una parte Se faccio così esplode l'altra Ok Leech Leech ci può dare una mano A recuperare HP più che altro Ecco la tinted Ok Ok A te ti prendo dopo Se riesco a ricordarmi che ci sei Ah cazzo Andiamo bene Dai Leech Fai il tuo Il tuo L'hai fatto Non me lo levare Bravo Che non me l'hai levato Adesso Adesso se riesco anche a recuperare quel cuore blu e non perderlo Potrebbe essere tanta roba Non ho visto che altre caratteristiche sia alzato o abbassato Forse è abbassato il range e il tier delay Sì Può essere Ancora stai lì Una chiave ce l'ho E bel Me lo sarei spermiato eh Se proprio Grazie Grazie Per avermi dato una chiave esattamente sopra le cacche Ok Aspettavo che prendesse Facesse presa Leech su Guarda facciamo così così ci leviamo il pensiero Mi piacerebbe un sacco prenderlo ma non ho soldi Non ho soldi No vorrei quel cuore Una monetina Una bomba Robbe Sì Vai Leech Credo in te Vai Leech Vabbè Questo comunque le prenderemo entrambi Quindi Monetine No a me serve una monetina però Allora Adesso vogliamo Non abbiamo lacrime spettrali Oh sì Abbiamo lacrime spettrali Mi sento una cazzato Una moneta Una Una sola No Una moneta E vabbè E vabbè Niente monete che vedevo di Non ne ho voluto sapere il gioco E Amen Preferisco comunque poter aprire scrigni gratis Che Avere un po' di knockback Che ci dici? Camouflage Mi sa che funziona Quanto è sette li danno? Sette è abbastanzina eh Soldo No Niente Niente soldo Qui c'era la bomba ottima Vabbè Usciamo Chiave Questo è uno dei rari casi in cui mi serve effettivamente Chiave Va benissimo Farmi danno a caso Anche no Ma Della serie che non può colpire Ah no perché Quelli stronzi Ok Sì Ci mettiamo un mese ma ok Allora Diciamo un quarto Di Ecco No 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 B devo ancora capirlo del tutto è uno di quegli oggetti che mi è ancora un po' oscuro aspetta un attimo mi piacerebbe trovare uno shop tu non puoi uccidermi non puoi anche essere utile potresti essere utile ma hai preferito di no zia colpisci qualcuno per favore cuori fammi vedere se qua ti prego di me che non ci so dei grid in mezzo perfetto va benissimo vai ti lascio fare regalami mezzo cuore bravissimo quanto volevo proprio non chiedevo altro ma porco il cazzo cuori sti cazzi di grampus non ne frega niente sti cazzi di grampus ok adesso so quale è il down e quale è il tap ah no no ho già questo si questo lo riusciamo volentieri ok buono a sapere a sapere che esiste vai no adesso possiamo andare di qua eh vada sei stronzo sei molto stronzo sei fin troppo stronzo oh eh però mi sta bene un cuore nero un cuore nero amnicia ma mi sta bene anche amnicia non so che fa quindi anche no no non volevo really really caffè in piel dammi una pillola non mi interessa vediamo se per caso riusciamo ad andare nella I am rrr assolutamente vabbè ci abbiamo provato ancora in più vediamo qua che ci dici flush meh bah non interessante il problema è se cominciano a cagare ragni tipo questo certo farsi colpire dall'unico boh dall'unico campione è proprio da me abbastanza inutile ecco che bombe ne abbiamo più lenti non ci hai donato nulla merda basta basta incastrato l'error va benissimo un oggetto che non mi interessa ecco dove è la stanza super segreta altri due ultimo tutto questo culo non trovare monete mi si ritorcerà contro se trovo lo shop purtroppo vero vero non mi si ritorci lontro perfez perfez ok diciamo favorita tra virgolette come tempistica non riusciremo a fare la boss rush e questo è poco ma è sicuro vorrei capire che cazzo gli ho preso a questo vabbè saranno impallati più 5 e 5 danno è tanto oggettivamente ogni moneta adesso è ben accetta qui lo so che non ci posso andare lì converrebbe quasi mamma mia troppo short ok 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 questo non mi interessava particolarmente questo invece mi interessa particolarmente perché mi dà un sacco di soldini che sono danno sono quasi a 15 no che dobbiamo fare no no oh no 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 mi servirebbe un abbasso abbassare esatto, stavo già andando dalla parte sbagliata per esempio sì, te ti voglio se non è quella esplosiva la voglio e non credo sia quell'esplosiva no, me lo da uno poi, terzo non c'era un terzo nel frattempo li stavo guardando se c'erano Tinted mammi ne ci hanno tu fuori va bene quel cuore lì rimane a meno che qua non si decidano le sorti no Crooked Eyes anche no non 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 fastidio scolex fantoccio va benissimo si può scendere ok 16 di danno mancava willow fortune ci garantisce un oggetto al prossimo al piano di mamma al piano della cesta al piano bravissimo e ci proviamo ma al che va va store energy pesci no un cricket sed non mi avrebbe fatto schifo vediamo un attimo se troviamo il mercato nero il problema qual è di soy milk è che è solo un oggetto della madonna soy milk senti tanto tutte e due non ne posso portare quindi tanto vale spawnare questa farà saltare non mi interessa mi interessa sparare con un ratio di fuoco pazzesco ma 90% in meno del danno vuol dire avere 1,6 circa però spariremo spariremo con un vabbè ma sti cazzo ma dai quanto c'ho 3 sparo a sta velocità vediamo aspettate un secondo mai convinto 3 danni contro di questo vuol dire che non ci siamo per un cazzo è quanto se puoi essere stronzo da 1 stronzo ma dai allora dicevo c'è sempre l'opzione leech fai qualcosa regalami i cuori leech 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 bravo leech potremmo potremmo teoricamente essere immortali ma non lo siamo merda 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 ma dai vai leech vai leech leech è solo quando uccide che fa e parca puttana però leech leech merda merda no porco il cazzo dov'è un po' dai che puoi morire dai che me la sento che muori un pezzettino di cuore no delirium anche no ok allora io perfetto 340 quantomeno la cesta ci siamo arrivati questo quantomeno una volta lo usiamo non ce la faremo mai dammi un po' di cuori dai sono per serie cuori no cazzo che cosa brutta non 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 Grazie a tutti. 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 Che paura cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parassitoide non è il mare. No, lo sto per fare giuro. Nel tappo. No, lo sto per fare giuro. 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 Ok, lo sto per fare giuro. Ok, lo sto per fare giuro. Ok. No, lo sto per fare giuro. No, lo sto per fare giuro. Alla prossimo. Alla prossima. 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 Alla prossima.